In Toscana nel 2016 le richieste e le esecuzioni di sfratto sono cresciute del 3,7%, quasi tutte per morosità causata dalla perdita del lavoro e una famiglia su 33, 47.384 totali vive in una casa di edilizia residenziale pubblica. La fotografia del sesto rapporto sulla condizione abitativa a abitare in Toscana dell'osservatorio regionale presentato a Firenze nella quarta conferenza regionale sulla casa conferma che la crisi morde ancora con 53.000 famiglie toscane povere certificate. La regione, ha detto l'assessore alla casa Vincenzo Ceccarelli, interviene con il contributo affitti e con il fondo morosi incolpevoli. Il resto lo fanno gli investimenti con cui in tre anni si conta di realizzare 1.300 nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica, 661 già in costruzione. La regione negli ultimi dieci anni ha investito 500 milioni per la costruzione di alloggi ERP, 122 soltanto negli ultimi tre anni. C'è un impegno da parte della Giunta a continuare a garantire investimenti importanti, abbiamo detto 100 milioni in tre anni. Il primo anno è quest'anno e noi con le varie variazioni di bilancio abbiamo già impegnato 35 milioni. La Giunta regionale ha anche presentato una proposta di legge di riordino del settore abitativo per dare maggiore equità a un settore in cui le disuguaglianze restano molte e in cui anche le famiglie cambiano. Sono sempre di più infatti quelle composte da persone sole. Uno dei dati che emerge è sicuramente questa, si dice in gergo, polverizzazione dei nuclei familiari, ovvero un aumento di circa mezzo punto percentuale rispetto al 2015 di famiglie composte da una sola persona. All'interno di questa casistica un numero rilevante riguarda le persone con più di 85 anni. E il mercato privato? Le compravendite delle case sono cresciute del 20% nel solo 2016, il dato migliore degli ultimi 5 anni, ma gli affitti sono rimasti fermi, insomma una Toscana a due velocità.